Il Tribunale di Milano respinge i due ricorsi presentati dall'ex Presidente della Corte Costituzionale Valerio Nida e da un pool di legali. I ricorrenti chiedevano l'intervento della consulta, sostenendo che la legge, in un unico quesito, sottoponeva all'elettore una pluralità di oggetti eterogenei, non lasciandogli la possibilità di esprimere orientamenti diversi su materie eterogenee come il CNEL e il bicameralismo. Ricorsi, carte bollate, contenziosi ci interessano poco. A noi interessa far votare il prima possibile i cittadini, perché prima vince il no, prima si ferma una cattiva riforma, prima si manda a casa il governo Renzi. Il referendum del 4 dicembre non sarà per l'Italia l'equivalente della Brexit o della vittoria di Donald Trump, assicura il Premier. Il sì, ricorda Matteo Renzi, è un voto contro la vecchia guardia che ha fallito e ora è unita solo dall'odio, sottolineando di aver tolto l'alibi del legame tra la legge elettorale e la riforma costituzionale con l'accordo interno al PD. Secondo Renzi, chi vota no nel PD vuole distruggere il partito, è impossibile a distruggere il partito. Ci ha già pensato lui, replica Alfredo Dattorre. Decideranno i cittadini il 4 dicembre e bocceranno un'ipotesi di riforma costituzionale che può far arrivare al potere un Trump qualsiasi, riducendo lo spazio dell'opposizione e mettendo tutto nelle mani di un capo. Intanto, sempre sul fronte del no, parte oggi ad Aosta il treno tour del Movimento 5 Stelle, una campagna in 17 tappe che toccherà tutto lo stivale e verrà capitanata da Alessandro Di Battista.